Giovanni Lomonaco, direttore artistico al Festival Teatro Bastardo, una kermess che vedrà impegnati tre teatri palermitani. Esatto, noi come Sicilia Queer che è l'associazione culturale che organizza la prima edizione del Festival Teatro Bastardo nasciamo in realtà come festival di cinema, però abbiamo sempre voluto fare e con questa prima edizione del Festival Teatro Bastardo continuiamo a fare questo, ovvero di allargare il discorso su quella che è per noi l'istanza queer. Quello che parte da un discorso fatto sul tema delle differenze che pur partendo da tutto quello che sono stati i studi di genere, i studi sulle tematiche omosessuali eccetera, adesso si allarga e cerca di diventare un discorso più inclusivo che abbraccia tutte le differenze, tutte le differenze che hanno diritto di cittadinanza. Il Festival Teatro Bastardo è un festival nomade, abbiamo proprio voluto farlo espressamente nomade perché il termine bastardo porta in sé questa logica della contaminazione, della non identità. Ecco, è più un festival diretto verso la pluralità eccetera, è l'inclusione. Per cui i temi che si affronteranno negli spettacoli sono diversi e in più noi abbiamo voluto ritagliarci insieme agli spettacoli un momento per così dire di riflessione sull'istanza queer, che è questo nostro momento quirologi, nel quale abbiamo organizzato tavole rotonde, incontri. Faremo due omaggi, un a Nino Gennaro, poeta e drammaturgo siciliano di cui ricorre il decennale della sua morte e un a Pierpaolo Pasolini. Quanti spettacoli e da quando a quando? Il festival comincia il 6 di novembre, c'è una preapertura con una tavola rotonda su Nino Gennaro appunto al Teatro Massimo alle 17.30 e poi l'apertura vera e propria del festival sarà il 7 novembre alle ore 21 al Teatro Montevergini con uno spettacolo scritto e diretto da me sotto forma di studio e continua il festival fino al 15 novembre con tanti altri spettacoli. C'è uno spettacolo bellissimo di Rosario Palazzolo, Portobello Neverdice che ha vinto tanti premi, gli spettacoli che faremo al Teatro Libero che sono due, Sissi Boi e Cucù. Poi al Teatro Montevergini di nuovo ci sarà uno spettacolo, un monologo bellissimo, il martedì al Monoprix con un bravissimo interprete e un monologo, Enzo Curcurù. Poi è una compagnia di Milano, questa che viene e poi una mise in espace di un laboratorio che stiamo realizzando presso il TMO per Pelo Pasolini condotto da Enrico Roccaforte con diversi attori. Abbiamo una nostra guest star palermitana che è Madante che per la prima volta qui proprio al Teatro Biondo sarà al Teatro Biondo con il suo spettacolo Acqua Santa che fa parte di questa famosa trilogia, la trilogia degli occhiali. Lo spettacolo è andato in tournée in vari posti d'Europa. Festival Teatro Bastardi, il Comune di Palermo è impegnato in questo progetto di inclusione che vedrà il Teatro Massimo, il Libero, il Teatro Biondo e anche la riapertura del Montevergini. Sì, il Montevergini è stato usato anche per altre attività durante tutto l'anno, chiaramente adesso come ho annunciato a breve partirà un atto indirizzo che vedrà la messa a bando in diversi spazi teatrali in cui anche il Montevergini. Nel frattempo comunque era un mio impegno e la mia volontà sicuramente quella di poter aprire lo spazio alla città con attività di cui sicuramente questo del Festival del Teatro Bastardo organizzato al Queer, in particolare grazie all'impegno, devo dire straordinario di Giovanni Lomonaco, è un'opportunità importante sicuramente di riapertura, come diceva lei, del Montevergini, ma anche di ampliamento della progettualità queer che in questi anni è stata di fondamentale importanza della cultura della città attraverso il Festival del Cinema e che adesso allarga anche alle attività teatrali e che dunque inizia con questa prima sezione dedicata in particolare alla figura di Pierpaolo Pasolini e che comunque ha una progettualità triennale e che speriamo possa diventare, anzi ne siamo certi, uno degli appuntamenti più importanti dell'attività culturale della nostra città. Il Comune di Palermo è sempre in prima linea riguardo i problemi del gender, dell'inclusione. Il Comune ha la città di Palermo, ha come politica culturale quella della battaglia per i diritti, quindi facendo un passaggio successivo rispetto a quella che è stata la battaglia per il diritto, dunque la legalità. Adesso la battaglia che si porta avanti e dunque la politica culturale che viene sposata è quella di andare oltre a ciò che la legge già prevede e creare dei percorsi che possano attraverso le battaglie per i diritti umani nel senso più ampio aiutarci a costruire quel percorso anche di legalità che possa essere ampliato e al passo con i tempi. Diciamo che la realtà è andata più avanti rispetto a quello che la legge stessa è riuscita a contemplare. Grazie Grazie Grazie